benvenuti ai 25 millilitri sono claudia ferretti communications manager dell'istituto espresso italiano oggi parleremo di pulizie al bar la giornata tipo e lo faremo come sempre con degli invitati degli ospiti e oggi avrò il piacere di avere con me gianfranco carubelli amministratore delegato di asa chimici gruppo pulica azienda socia dell'istituto espresso italiano e andrea antonelli brand ambassador di asa chimici gruppo pulica prima di tutto il benvenuto a gianfranco carubelli per parlare proprio per iniziare a parlare di questo tema benvenuto gianfranco buongiorno buongiorno a te claudia che piacere di vederti piacere essere più presente saluto anche tutti gli amici che magari ci stanno seguendo perché naturalmente oggi tratteremo un argomento molto importante vista anche è la 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 i periodi in cui siamo per cui vogliamo essere tu e farlo voglio essere positivi per la cosa perché deve essere una cosa del genere e anche la pulizia deve essere una cosa che non deve essere né tralasciata e neanche presa con paura dobbiamo avere timore timore vuol dire conoscere una cosa e praticare le giuste direttive per portarla termine per cui oggi faremo così gioco qui anche il mio collaboratore andrea io farò chiaramente questa introduzione dappertutto e dopo di che andremo a focalizzare la cosa assolutamente perché non c'era appunto un interlocutore migliore per parlare proprio della polizia al bar a 360 gradi e in particolare poi ci concentriamo su quella che è la parte che concerne l'istituto espresso italiano per cui sulla postazione espresso però la polizia fondamentale nella giornata del barista del barista professionista quindi cosa vuoi vuoi raccomandare come vuoi inquadrare questa polizia generale che deve essere proprio un dogma io direi del barista allora qui la polizia al bar è una cosa molto ampia prima di tutto perché in un locale chiaramente entrano a far parte certi giochi certe strutture in cui ci riconosciamo da una parte deve essere un ambiente familiare quello che tutti noi tocchiamo con mano il mattino quando ci svegliamo però il bar deve essere anche un posto accogliente per altre persone chiaramente dobbiamo far sì che questa nostra questo nostro locale sia valutato positivamente dal nostro cliente che entra perché in effetti perché un cliente entra in un bar c'è già stata questa domanda fatta anche da Fipe in questo caso che ha fatto ha visto ha toccato con mano con i numeri il perché una persona entra in un bar anziché un altro adesso non andiamo a dilungarci però c'entra molto la polizia c'entra molto il colpo d'occhio c'entra molto la luce c'entra molto i colori c'entra molto quello che uno percepisce di prima che i primi dieci secondi di quello che io vedo in un locale sono quelli che mi portano poi a rimanerci bene arriva nersi un po distrattamente e invece dopo magari a continuare a frequentarlo perché se piace deve essere anche rifrequentato dicevo prima una cosa molto ampia perché in un bar c'entrano pareti tendaggi soffitti e tutto quanto è per la parte più il nocciolo il nocciolo duro del nostro bar deve essere chiaramente il banco bar deve essere il protagonista della nostra sala il banco bar appunto questo banco bar che a volte è tenuto un po così e così ma per esigenze qualcuno dice di tempistiche di tempo non ho tempo di invece no deve essere una cosa molto naturale e queste operazioni come andremo a vederle che le spiegheremo un po dopo ma sono cose che vedremo sono cose normali devono essere fatte con appunto con una naturalezza estrema cioè come se noi effettivamente dovessimo entrare a far parte di una comunità di una comunità e questa comunità abbia bisogno del mio supporto di barista per poter essere valutato positivamente insomma assolutamente perché infatti la pulizia al bar è una questione quindi sia l'immagine di marketing di comunicazione ma anche di igiene e ho la fortuna di conoscere moltissimi baristi professionisti è veramente la pulizia è uno dei tratti a cui tengono maggiormente diventa proprio naturalizzata poi a 360 gradi in tutta la vita sinceramente perché è giusto che sia così quindi marketing immagine comunicazione vicinanza col cliente ma anche proprio igiene e sanità perché appunto esattamente e quindi ci sono diversi fatti diversi diversi oggetti diverse parti che devono essere igienizzate in questo momento è molto importante allora dicevo prima focalizziamoci un attimo su quello che compete a noi pensiamo di saperne un po per cui andremo a focalizzare tutte le cose e tutta la pulizia che va mantenuta sul banco nel bar sul nostro banco bar il nostro banco bar è impegnato dappertutto con bottiglie bicchieri cucchiaini la bello e macchina del caffè macinino macinino che è quel muro sempre come dico sempre io che è sempre nascosto dietro alle paretine dietro al pacchetto dietro una cosa e lui deve quando l'accendo macina deve funzionare quando lo spengo basta lo lascio lì non tocco mai non lo guardo mai neanche invece sono cose anche queste che vanno valutate sono macchine perché queste macchine vanno manutentate anche ricordiamoci ci sono macchine che sono hanno a contatto un alimento per cui macchine molto importanti le nostre aziende oggi specialmente in italia stanno facendo da qualche anno ormai passi al gigante sul fatto che tutti i metalli e le bombe e comunque tutte le cose che vengano a contatto con alimenti siano certificati c'è una certificazione molto importante che è la moca si chiama così e tutte queste aziende tutti i metalli ripeto e tutte le sostanze che vengono a contatto con alimenti dobbiamo devono essere certificate e tutto quanto noi andremo a oltre che se certificati chiaramente dobbiamo capire che devono essere essere pulite altrimenti capitiamo sempre torniamo sempre indietro e la nostra scuola non fa mai passi in avanti noi dobbiamo pensare che nel nostro caso il nostro caffè da quando viene tostato libera grassi grassi oli e grassi questi oli grassi si rancidiscono ed è per questo che noi dobbiamo dobbiamo andare a toglierli sappiamo benissimo che con l'acqua come vi ha ripetuto tante volte non si può arrivare oli e grassi perché ci scivola addosso per cui non viene trattenuta ci sono dei prodotti specifici vedi pulica vedi puli milk che servono tutti quanti a un determinato determinata operazione abbiamo anche messo non adesso ma in commercio c'è anche un pulitore qui devo spezzare una lancia perché tanti non fanno differenza tra detergente e pulitore detergente è una cosa che contiene tenso attivi andremo affrontare l'argomento in un'altra in un'altra sede magari un pulitore che pulisce qualcosa che pulisce noi abbiamo fatto un prodotto per la pulizia delle macine che si chiama puligrind che non è un tenso attivo è un pulitore di base vegetale anche questo è un amido particolarico lavorato in maniera particolare che mi va poi ad aiutare a grattare in mezzo alle gole delle macine per portarmi via il caffè vecchio anche qui voglio sottolineare andiamo a pulire questa cosa però non abbiamo paura a volte i pulitori non sono pericolosi i detergenti oserei dire che chiaramente non si possono mangiare ma a qualche pulitore il grinda ad esempio in tante occasioni ho dimostrato che si poteva anche mettere tra le labbra diciamo perché perfettamente innocio perché voglio dire ci sono tanti argomenti e tanti luoghi dove andare operare per questo però io penso sia utile avere per le mani meno male che è con noi un professionista del caso che a affrontare tutti gli argomenti uno per uno chiaramente e cercare di dare questi consigli affinché la nostra postazione tornando a bomba all'argomento sia mantenuta pulita ed in ordine assolutamente io ti ringrazio moltissimo e aggiungo anche che le macchine le attrezzature sono oggetti sempre più sofisticati per cui anche per il buon funzionamento e mantenimento e la lunga vita più noi li trattiamo bene e li teniamo anche puliti più questi possono prestare le loro performance funzionare bene e da soddisfazione perché certi macchinari magari che costano una follia poi bistrattati o non mantenuti correttamente con i tutti i dogmi a volte danno danno dei problemi insomma per cui evitiamo assolutamente io ti ringrazio intanto gianfranco e andiamo a approfondire la giornata tipo con andrea antonelli che brand ambassador di asa chimici gruppo pulica e quindi andiamo proprio vedere con un professionista la giornata tipo che pulizia al bari intanto ti ringrazio e spero di vederti prestissimo gianfranco ringrazio sempre voi rimango sempre collegato e sempre dis a disposizione per tutte queste cose perché oltre che a far parte di un nostro lavoro del nostro core business chiaramente sono molto importanti perché anch'io essendo fruitore di bar o sempre questa non necessità è ma chiaramente questa voglia di viverlo come se fosse veramente casa mia come se fosse veramente un ambiente in cui mi sento bene grazie 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 anche a te ecco qua andrea antonelli buona ciao andrea sette che ti riattivo l'audio io faccio io eccolo qua ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando assolutamente sono molto felice di averti con me per parlare di un tema importantissimo anche perché ti ho visto anche all'opera per cui la pulizia in quanto elemento naturalizzato del barista ok quindi come inizia la giornata tipo del barista perfetto dal punto di vista della pulizia ovviamente assolutamente sì la giornata tipo del barista perfetto inizia la sera prima quando chiaramente il barista chiude il locale per lasciarlo pronto e in ordine per il mattino successivo di certo la pulizia non può iniziare il mattino assieme alle brioche è troppo tardi assieme ai primi caffè la macchina deve essere già perfettamente in ordine assolutamente questo è già bellissimo ed anche l'idea del del lavoro del barista inizia già la sera prima è proprio un continuo una e progettuale si devi pensare che è come la preparazione dei pranzi delle cene avvengono non l'istante on demand ma vengono ore prima la preparazione c'è tutto un setup c'è una preparazione atta alla brigata atta finalizzata intendo dire a coordinare tutti i lavori non posso preparare tutto sul momento non sarebbe fattibile ma quello che posso fare ma quello che posso fare sul momento è tenere sempre igienizzati poi dopo lo vediamo i piani di lavoro le superfici le strumentazioni quello che posso fare esatto quali sono proprio le parti più esposte allo sporco sul bancone direi nella prestazione espresso cappuccino esatto da sempre tranne quest'anno ultimo che sta terminando le normative poi stanno cambiando ancora nuovamente ci siamo poi dimenticati i clienti al bancone quindi ci siamo dimenticati il classico cliente che faceva saltellare l'euro sul bancone che si appoggiava con le mani magari bagnate sudate non lo so una cosa la sul bancone il gomito vedi vedi che hai gesticolato bene e ce lo siamo dimenticati perché c'era una certa distanza tra noi e il cliente fortunatamente sta tornando in auge il cliente al bancone quindi è chiaramente al tavolino questo cosa comporta comporta di farci trovare pronti il bar deve farsi trovare pronto con non solo la classica spugnetta per togliere le briciole quella che c'è in tutti i locali o il pennellino con la palettina per le briciole ma con l'igienizzante per igienizzare la postazione che è stata presidiata da dei soggetti per dare spazio ad altri che sono avventori che si stanno portando che si stanno recando all'interno del locale quindi parte sì dietro al bancone ma la nostra responsabilità è verso il cliente e quindi dobbiamo per sempre pensare anche a questo l'ha detto prima gianfranco carubelli diceva dobbiamo sentirci un po a casa il nostro ambiente l'ambiente è un ambiente intimo a casa nostra non perché nostra ma c'è pulito ma succede che viene un ospite di far trovare pulito anche oltre anche oltre immaginabile ma per la soddisfazione dell'ospite per la sicurezza dell'ospite perché la percezione della pulizia della luminosità di un certo profumo percepito all'interno del locale da tranquillità e sicurezza al cliente che si approccia nel nostro locale questo sì assolutamente quindi già bancone tavolini non solo spolverati da zucchero e briciole ma igienizzati ok perché lì c'è un via vai di persone insomma e va tenuto sotto controllo la postazione quello che è ovviamente la postazione maestra quella del bancone del bar possiamo vedere noi qua dietro quella da sempre il cliente non ha accesso ma quella da sempre è la postazione più importante per il barista è quella che dovrebbe curare maggiormente gocce quali sono proprio le azioni della preparazione dell'espresso quindi come barista che possono portare a sporcare con sia nella preparazione espresso sia cappuccino quindi con polveri gocce bagnate asciutte raccontaci un po dunque innanzitutto l'espresso parte sempre dalla camera di macinatura immaginiamoci di vedere dopo la macchina quindi macina caffè battifondi pennellini straccetti tutto quello che concerne la macinatura per poi passare solo poi all'estrazione perché l'estrazione viene sicuramente dopo quindi dedicare i giusti spazi i pennellini gli straccetti dedicati ad ogni singola operazione non potrò usare lo strofinaccio che uso per pulire il la steam van la lancia del vapore del latte per pulire la tramoggia dei chicchi di caffè o il piano dove si dove si depositano delle briciole della polvere di caffè appena macinata mi puoi ben capire che lì l'igiene si va a perdere perché ovviamente la polvere del caffè andrebbe a finire sulla lancia che ho appena usato se uso la stessa spugna vorrei proprio essere anche forse un po banale scontata ma far proprio rendere l'idea perché è una cosa molto importante per cui perché servono anche semplicemente stracce spugne diverse perché palesemente se prendo una spugna e pulisco attorno alla tossazione del macchino dosatore lì ci sarà sicuramente polvere se io la uso anche per la lancia tutto questa tutte queste sostanze vanno a trasferirsi lì e poi entrano addirittura nel cappuccino esatto abbiamo sempre visto in tempi non sospetti il cameriere che di solito la persona che è l'anello di unione tra la sala tra plateatico i tavolini i nostri ospiti e il bancone sbarazzare i tavoli e poi con lo straccetto con la spugnetta che ha utilizzato per sbarazzare i tavoli questa spugnetta il veicolo che porta all'interno del bancone eventuali germi batteri sporcizia che deve stare al di fuori del bancone questo l'abbiamo sempre visto sempre studiato a scuola ero sempre comunicato questo rischio l'ho sempre comunicato ai ai miei clienti l'abbiamo visto meno speriamo che si sia persa questa brutta abitudine di di creare una certa promiscuità con lo stessa con la stessa spugna con lo stesso straccio chiamiamolo così perché questo era un'operazione assolutamente non da compiere e quindi quelli che si usano fuori al banco e ai tavolini devono andare al massimo a essere lavati sciacquati assolutamente non c'è la fila di persone di clienti che passa dal nostro bancone visita turistica e poi tornano fuori quindi ciò che è fuori rimane fuori ecco perché c'è tutto questo rigore dietro il bancone del bar ecco perché questa parola bar perché c'è questa barra che divide un po l'utente da quello che è il professionista ecco dall'avventura quello che è invece l'operatore che lavora all'interno del locale e che per ragioni importanti deve assicurarsi di igienizzarsi le mani dopo aver preso i soldi questo è sempre stato una buona prassi prima di andare a toccare l'alimento non è da oggi ah no e quindi abbiamo visto stiamo vedendo la postazione del barista macina dosatore tramoggia attorno al macina dosatore anche lì posso usare la stessa spugna per la tramoggia per attorno al macina dosatore che tipo di scuola che è dunque tutto quello che può contenere noi intendiamo chiamare la tramoggia e non campana perché questo nome ci suonava poco bene tramoggia perché contiene dei chicchi diciamo sempre di cercare di evitare di mettere a contatto con i chicchi eventuali non so di dimenticarsi di mettere il coperchio di questa tramoggia per evitare che la polvere chiaramente entri cerchiamo di consigliare anche di inserire sotto i chicchi in questa tramoggia di non inserire talvolta dei dei sacchetti o qualcosa che può venire anche seppur belli ma possono venire a contatto nella parte loro esterna appoggiati al bancone o magari in cartonaggio vario quindi cerchiamo sempre di tenere le cose a compartimenti un po separati cercando anche di far capire il perché è importante capire uno dice ma il sacchetto del caffè internamente sì ma esternamente è stato ovunque è stato toccato da chiunque quindi il panno usa e getta il panno carta usa e getta che viene utilizzato per pulire l'interno della tramoggia o l'esterno usa e getta non lo posso utilizzare da tenere lì in un in un posticino poi magari quando lo riutilizzerò no non c'è spazio per questo tipo di filosofia per questo tipo di pensiero credo che abbia capito ecco sì e quindi passati dal macinadosatore si va alla macchina e anche qui ci sono delle delle azioni e delle e degli alimenti comunque delle sostanze che possono sporcare la prostazione quindi come un barista può naturalizzare anche le azioni di pulizia quindi proprio all'interno del suo operato macinadosatore poi passa la macchina e qui cosa avviene e qui avviene che il nostro prodotto che forse non abbiamo ancora citato ma schema pulibari igieniche è operativo nello stesso modo sia come lo è sul macinadosatore tanto lo è sulla macchina perché l'azienda pulica fa sa chimici pulica fa sviluppato un prodotto ad ampio spettro che va bene sia sulla macchina freddo che noi consideriamo il macina caffè sia sulla macchina caldo senza lasciare tracce che consideriamo la macchina del caffè espresso quindi un solo prodotto per andare a pulire e igienizzare la tutta la carrozzeria e non solo anche le parti le prime parti attive che che contornano dov'è l'ambiente di lavoro dove il barista va ad appoggiare il pressino dove c'è il tappetino dove c'è il livellatore dove appoggia magari i portafiltri anche qui i portafiltri hanno una manopola questa manopola potrebbe essere anche un veicolo perché no la tocco io la tocca un altro operatore ecco che in tempi anche qua non sospetti in tempi magari più di covid era uscita anche una bella comunicazione in cui si consigliava non di pulire la macchina per farla lucente ma igienizzare la macchina pulire la macchina per igienizzarla questo aspetto importante da sottolineare si è sempre lucidata la macchina perché è bella vedere una macchina pulita come si deve presentare una macchina si deve presentare pulita con le lance pulite come se come se fossero non solo le 5 del mattino pulita come la lasciata pulita la sera prima ma non solo per il bello del cliente che entra e la trova in ordine ma per l'igiene perché se cominciamo a lasciare indietro le manopoli la lancia del vapore lo straccetto l'ho toccato tre volte dopo è difficile andare a rimettere in ordine il tutto due domande per te su questa parte uno una volta erogato l'espresso il fondo resta lì nel nel filtro o va subito pulì battuto e svuotato e domanda numero due ecco e domanda numero due la lancia vapore ogni quanto bisogna pulirla perché sono sono un po provocatoria però sono cose che mi piace ricordare dunque noi pensiamo sempre di che l'utilizzo dei nostri prodotti e debba avvenire per migliorare la il piacere l'esperienza del cliente finale e quindi potremmo permetterci di consigliare di una volta usato il porta filtro una volta estratto il caffè in espresso di eliminare direttamente il composto di caffè è già estratto all'interno del battifondi per permettere un'esperienza più alta in termini di qualità al cliente successivo onde evitare che composti contenuti all'interno del pannello di caffè esausto vadano a deteriorare l'ambiente di estrazione per l'esperienza successiva ovvero quella del cliente successivo assolutamente ma perché aggiungo solo ancora una pillola perché la frazione grassa che è rimasta inestratta all'interno del pannello va piano piano con i minuti quindi con il passare del tempo e con la temperatura che si inalza all'interno del portafiltro vanno a determinare la chiusura del foro del filtro ecco perché consigliamo di eliminare pulire far scorrere un po di acqua e poi se passa un determinato tempo entro il cliente successivo troveremo già la postazione pulita ma se al cliente successivo sarà passato troppo tempo noi intendiamo dire anche dieci minuti quindi troppo tempo non è due ore e dieci minuti sarà già difficile andare a togliere il pannello di caffè esausto sarà difficile andare a togliere quella anche quella sensazione quello d'ore forte che porta perché comunque ricordiamoci il caffè è vero che una parte si è già estratta in tazza ma solo una parte l'altra rimane all'interno del portafiltro e con la temperatura e con l'umidità con l'acqua contenuta in adesso il pannello prosegue l'estrazione comunque all'interno della struttura assolutamente e aggiungo anche tra le gestualità naturalizzate sempre ristando sul portafiltri la pulizia del bordo del portafiltro perché lì possono andare appunto a depositarsi della polvere assolutamente per rispondere all'altra domanda invece ogni quanto è necessario doveroso pulire la lancia del vapore beh innanzitutto possiamo dividere anche qui due pulizie una più veloce possiamo chiamare una pulizia molto smart veloce semplice che consiste nell'utilizzare la lancia appoggiare il brico del latte e flussare proprio aprire chiudere il vapore per far uscire per spurgare velocemente quella quantità di latte che in chiusura la lancia del vapore a si è risucchiata essendo immersa all'interno del brico del latte quindi siamo in chiusura chiudiamo il vapore immediatamente la lancia aspira qualche ml di prodotto di latte che c'è nella lattiera il perché l'abbiamo detto durante una delle una delle puntate appunto in cui spiegavamo il nostro pulimilchi prodotto per la lancia del vapore per la sua detersione e e questa è una pulizia veloce assolutamente sì una pulizia invece ordinaria ma non meno veloce perché altrettanto è una pulizia veramente da un minuto e 30 secondi cronometrata è la pulizia quotidiana con il pulimilchi appunto con il detergente apposito la vaschetta l'acqua fredda e il solito promemoria mi piace però sottolinearlo di aprire chiudere il vapore dalle 7 alle 10 volte aspettare tra un'apertura e una chiusura 10 secondi perché la soluzione di acqua e pulimilchi deve essere risucchiata all'interno del tuo vicino per poi andare a risciacquare il tutto questa è una pulizia ripeto non più lenta altrettanto veloce per un minuto e trenta all'interno di una di una sessione operativa di un bar veramente un tempo di un lampo e di conseguenza è una pulizia ma che gli permette di avere sicurezza igiene servita al cliente e ricordo anche la pulizia esterna proprio anche semplicemente col panno che va fatta appunto sempre nella parte esterna sì assolutamente e quindi diceva prima anche anche gianfranco carubelli che talvolta alla pulizia ecco viene un attimino tralasciata con la motivazione che non c'è tempo o che non ci sia tempo per effettuarla allora come risolvere questo falso problema nel senso questa questione certo come si fa è un falso mito perché al mattino come dicevo prima non è quasi possibile arrivare preparare le colazioni intanto pulire mettersi con lo straccio spolverare è un falso non è possibile la sera quando si chiude il locale sia che stiamo parlando di proprietà che parliamo di baristi e anche possono la stessa cosa dopo una giornata all'interno di una caffetteria di un bar di un locale a fine giornata si compiono quei quei lavori necessari per chiudere locale per metterlo in sicurezza e poi si va via poi si esce dal locale ecco ma anche nel corso della giornata anche nel corso della giornata poi ci fermiamo anche sulla chiusura ma durante la giornata come si fa certo noi consigliamo di compiere claudia quelle operazioni consigliamo i baristi che ci stanno guardando di compiere quelle operazioni di manutenzione di pulizia delle attrezzature da caffè a metà giornata di spezzare la giornata perché perché abbiamo una forza con i prodotti pubblica con la gamma completa i prodotti pubblica ci danno questi prodotti una copertura di 24 27 ore su che cosa su quella cosa che diceva prima gianfranco carobelli sul rancido percepito sul rancido che il grasso ossidato nel caffè che il cliente percepisce nell'arco di qualche ora quando questo grasso viene lasciato a contatto con la tramoggia determinato nei portafiltri sulla lancia del latte una lancia sporca il cliente lo percepisce tenere costantemente manutentate vuol dire pulite le attrezzature non che igienizzate significa conoscere la tempistica precisa di pulizia di utilizzo anche che è intercettata in circa 24 ore ora ti faccio un esempio se questo pomeriggio può essere che il mio locale come tanti locali abbia un punto di flessione del lavoro individuo nel mio locale le ore 14 le ore 15 il dopo pranzo prima che arrivi il pomeriggio prima che arrivi il tè prima dell'aperitivo individuo quel quella fascia oraria per manutentare curare bene tutte le attrezzature e tu mi dirai claudia e tu mi dirai ma se ho un consumo tale da superare anche non so un consumo tale di caffè ad esempio noi fa per esempio due chili e mezzo tre chili di caffè in un giorno perché ci sono locali che fortunatamente e ben per loro lavorano anche 8 10 chili al giorno non è un problema consiglia abbiamo sempre consigliato abbiamo sempre fatto consigliamo a quei locali di ad esempio di spezzare la mattina interrompere magari non il lavoro ma la sessione operativa con una pulizia ad esempio su un gruppo erogatore e di poter gestire gli altri invece mentre si lavora e poi a turno si puliscono tutti i gruppi di pulire anche lì il macino a caffè di ripristinare la condizione operativa al fine che il nostro cliente non percepisca mai l'abbassamento di qualità che è dato ancora lo ripeto che è dato dall'irancidimento dei grassi o dalla somma di questi che è data dallo spazio che di tempo che trascorre tra un'estrazione l'altra e comunque a fine giornata dopo circa 24 27 7 ore e circa su una grammatura su un chilaggio si può dire dai due chili e mezzo in su quindi abbiamo detto a ogni singola erogazione la postazione lavoro barista pulita dal macin proprio tenuta igienizzata e pulita dalla dal macinadosatore fino a quando arrivo al bancone bancone o tavolini puliti a ogni cambio di cliente ok individuare un momento durante la giornata per effettuare una pulizia più profonda e poi si arriva anche alla fine giornata se vuoi parlarsi anche della fina giornata claudia a fine giornata non possiamo consigliare i nostri baristi di lasciare attrezzature come sono e uscire dal locale quello che possiamo consigliare è andata no esatto di rimettere in ordine il tutto se c'è bisogno di un'ulteriore pulizia con il detergente volentierissimo perché comunque male non fa i prodotti puliti a ripeto hanno oltre che certificazioni quindi sono più che sicuri conosciamo tanti baristi ma la maggior parte chi lavora insomma in un certo modo ci tiene alla propria tazzina che venga percepita bene puliscono anche due o tre volte la macchina all'interno di una giornata lavorativa consigliamo sicuramente al barista che invece non supera questi volumi di tenere ben pulite in ordine con una risciacquata il portafiltro il gruppo rogatore sempre col filtro cieco comunque l'attenzione alla lancia ma ripeto anche qui il pulibarigeniche che è il prodotto che copre diciamo la pulizia di quest'oggi che sto spiegando quest'oggi si può utilizzare per ad ampio spettro sulla macchina per non lasciare cattivi odori al all'operatore del mattino successivo assolutamente poi li trasmette involontariamente al caro cliente che ha di primo mattino deve fare un po la cavia delle prime dieci tazzine che non vanno bene e no no e quindi a chiusura conclusione della giornata c'è la pulizia appunto se necessario a seconda del consumo ancora con igienizzanti con prodotti sicuramente di tutta la postazione di tutto il bancone e ti faccio proprio una domanda proprio per sottolineare quello che si fa ad ogni erogazione perché per tanti baristi ormai sono azioni che non devono neanche essere più spiegate che vengono fatte quasi inconsciamente no però le azioni di pulizia che vengono fatte automaticamente dal macinadosatore a quando servo il mio espresso o cappuccino quali sono cioè che fan parte dell'erogazione c'è pulizia che fa parte dell'erogazione l'erogazione del caffè claudia non è soltanto premere il pulsante o alzare la levetta ed è tutto automatico e si fa da sé qualche giorno fa si discuteva si parlava del costo del caffè espresso e tanti dicevano quanto costa erogare un caffè espresso e allora ci si concentra sempre sai su cosa sulla materia prima su cosa costa il prodotto per eccetera no e si fa un insieme di costi e qui c'è del tempo per preparare una bevanda anche il tempo come 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 c'è il detto il tempo e denaro oltre che conoscenza per non perderne dell'altro che cosa bisogna fare per preparare un espresso bisogna macinare innanzitutto del caffè fresco e non che sia magari già lì dalla sera prima già macinato perché altrimenti perdiamo della qualità dove all'interno di un portafiltro che sia pulito che sia ripristinato ad esempio noi la sera consigliamo sempre di lasciare agganciati i portafiltri alla macchina senza stringere troppo perché non c'è bisogno di stressare le guarnizioni che sono una componentistica del gruppo erogatore e il portafiltro dicevo deve essere pulito una volta pulito si inserisce dentro la dose prescelta con le due dosi si vanno a livellare bene si vanno a pressare dopo di che si fa ordine sempre sul portafiltro come ricordavi bene tu sulle alette e sul bordo del portafiltro affinché la chiusura con la guarnizione sia a tenuta di pressione altrimenti poi può sfuggire dalla pressione e se ci sono delle delle piccole briciole possono finire per pressione all'interno della tazza possono essere decolate sulla struttura del portafiltro e cadere in tazza che danno quel cattivo sgradevole sapore di amaro che un po viene dalla guarnizione e che è consumata e un po viene da tutto quel residuo bruciato che si è attaccato dove c'è la docetta e la guarnizione si controllano bene sicuramente anche i beccucci di fuoriuscita che siano ben puliti credo di trovarvi d'accordo tutti cari baristi perché quando abbiamo le crosticine attaccate i beccucci è tardi per fare qualità quelli mantenuti ben puliti si termina l'estrazione ripeto si serve l'espresso si fa servire l'espresso si torna al portafiltro perché l'espresso non è terminato consigliamo di tornare al portafiltro lo prendiamo togliamo il pannello di caffè esausto puliamo bene e ripristiniamo se c'è bisogno con una flussata di acqua magari sui beccucci dipende sono delle astuzze che poi il barista oltre allo studio le competenze affina con il lavoro proprio di un locale o di un altro e poi si riaggancia dolcemente il portafiltro senza stringere troppo forte perché tanto una volta agganciato non va da nessuna parte non ce lo porta via nessuno quindi si appoggia appena il portafiltro o si aggancia si inserisce in sede e si aspetta il cliente successivo se siamo stati bravi arriverà subito sarà già arrivato invece saremo stati meno bravi e allora dovremmo aspettare un po' di tempo e se sta facendo un cappuccino cosa devo aggiungere a tutte queste azioni che comunque devo fare bene quindi dobbiamo dedicare attenzione anche alla lancia del vapore la lancia del vapore come dicevo prima una dedizione tutta a sé perché ha oltre a avere degli strofinacci e delle tempistiche diverse magari di pulizia però anche qui come hai visto abbiamo consigliato non solo la pulizia ordinaria tutti i giorni con il detergente con il detergente appunto che permette la pulizia e l'igiene della lancia del vapore ma anche quella più smart quella più veloce quella più semplice se vogliamo che è immediata una volta che ho utilizzato la lancia del vapore la guardo la guardo e mi domando posso lasciarla così non posso lasciarla così perché dietro di me o davanti a me c'è il cliente mi sta guardando se la lascio così chissà cosa pensa di me che sono colui che lo sta servendo quindi subito immediatamente termino la montatura di latte con in mano il brico ancora prima di appoggiarlo ho già preso l'altra mano e ho già pulito con un gesto di questo tipo ho già pulito con un panno umido la lancia del vapore e andrò a flussarla perché nel frattempo ho depositato la lattiera e avrò la mano libera per flussare o con una levetta o con una rotella per far uscire quella percentuale di latte poca ma che farebbe danno perché perché la lancia del vapore essendo molto calda andrebbe a seccare immediatamente al suo interno un residuo di latte stiamo andando un po lunghi ma c'è ancora ancora una domanda che che mi è venuta mentre parlavi la lattiera dopo che io ho servito o le lattiere dopo che io ho creato un bel cappuccino italiano cosa faccio con queste lattiere le lascio che sono dietro il banco con dentro quello che è rimasto magari cosa cosa ne faccio poi delle lattiere una volta che ho finito il mio cappuccino anche lì non è ancora finito no no assolutamente meriterebbe una puntata però cerco la faremo fatto bene a dirmi hai fatto bene a dirmi stringi perché siamo già un po lunghi questa meriterebbe una puntata sempre di più all'interno dei locali cercherò di essere veloce ma oltretutto anche simpatico è sempre di più nei locali ci sono diverse tipologie di lattiere perché diverse tipologie di bevande sono sempre più presenti nei locali bevande alla soia l'avena di riso e latte vaccino quindi avevano già tre quattro brichi diversi l'operatore specializzato colui che ha perfetta conoscenza di come si realizza un cappuccino italiano a regola d'arte sa bene che c'è una determinata quantità di latte da inserire all'interno della lattiera quindi da sviluppare in montatura che sia per un cappuccino per un espresso macchiato a seconda di quello che è la richiesta da parte del cliente una volta che ha terminato la preparazione e la lattiera è vuota dovrebbe essere vuota perché ha preparato per quel cliente non ha preparato per passami esempio claudia per un pullman di persone quando aveva davanti un cliente che non ha preso la lattiera da un litro altrimenti quello dimostra già una scarsa una scarsa capacità già di apprendimento di intuizione da parte dell'operatore quindi una volta che ho terminato il prodotto una volta che terminato e ho servito la bevanda andrò per quanto mi riguarda a risciacquare a pulire bene la lattiera che andrà a ospitare subito se necessario del nuovo latte una bevanda come ho detto prima di riso di soia di avena ce ne sono tantissimi insomma perché questo perché soprattutto con le temperature di raggiungimento del latte potrebbe essere la scusa quella per andare a riscaldare del prodotto già preparato già riscaldato una volta e due volte o tre volte con abbassamento qualitativo drastico assolutamente saremo fuori dei canoni della qualità di un cappuccino anche no certificato cappuccino qualsiasi se così si vorrebbe chiamare quindi quindi è l'importante è considerare tutto quello che prendiamo in mano dal 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 pressa caffè al pressino a quando mettiamo le mani sul macina caffè sulla pulsantiera al nostro portafiltro che il barista sempre in mano i portafiltri e la lattiera come oggetti non che si non che si mettano a disposizione al mattino e poi alla sera si fa un giro in lavastoviglie perché alla sera il giro in lavastoviglie vi darà dimostrazioni e correggetemi se sto sbagliando voi che ci state guardando adesso se la vostra lattiera vi viene pulita io scommetto di no io scommetto di no perché si forma un'incrostazione talmente dura sul brico sebbene sia di acciaio alimentare lavorato eccetera eccetera di ottima qualità che non siete più capaci di togliere una sola volta al giorno ecco perché consigliamo di tenere costantemente pulito non solo l'ambiente di lavoro ma anche le attrezzature come se fosse il tegame il tegame che lo chef utilizza non è che lo rimette sul fuoco e aggiunge ancora per le preparazioni del pomeriggio della sera a casseruola si lava il tegame si lava e il cuoco sa quando aspettare il suo cliente ecco come hai detto bene tu non avrò un bricco del latte ma ne avrò già 23 perché per le diverse preparazioni o le diverse fasi della giornata dai più piccoli magari per il pomeriggio a quelli un po più grandi per la mattina l'ultimissima domanda che riguarda proprio voi puli caffè ricordo tutti appunto che sono qui con me oggi entre antonelli e gianfranco carobelli ultimissima domanda hai accennato più volte appunto al detergente per pulire superfici se io penso al bancone bar cliente che si sporca appunto di latte di caffè di cappuccino zucchero zucchero che esce dalle che viene scorso fuori dalle bustine briciole non dico le spugne ma dico il detergente può essere lo stesso che uso poi anche nella mia postazione lavoro o servono cose diverse deve essere io consiglio consigliamo non io noi consigliamo ma io in prima persona che sono brand ambassador pulita quindi per me è un onore noi consigliamo il puli barigeniche e più di tante parole voglio fartelo vedere ecco eccolo qua e quindi quello va bene per sul più postazione del cliente ma anche la macchina e la superficie metalliche della macchina ma c'è un attore calda e fredda guarda sei fuori dall'inquadratura ecco qua solo 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 guarda anche sulle mani certo assolutamente sì perché è sicuro perché non facciamo prodotti pericolosi perché il nostro primo pensiero è il barista e ci sono tante cose per pulire se ci pensi claudia ci sono tante cose che si usano per pulire c'è la spugnetta e sono no qua neanche una spugnetta quelle con quelle abrasive potrebbero andar bene non lo so forse graffierebbero tutta la superficie rovinando la superficie ci sono tanti pulitori come forse tu le chiamate detergenti che sono profumati o che sono addirittura ma che lo riportano in etichetta sono corrosivi sono corrosivi sul metallo e la macchina di che cosa è fatta di metallo e allora potremmo prendere in mano qualsiasi cosa per pulire ma scusa se spezzo una lancia è quasi naturale tutti i giorni qui nasa chimici pubblica si lavora per produrre per preparare delle ricette che siano innanzitutto sicure che non lasciano nulla alle tazzine depositate che non portino profumi ai caffè che non siano oltretutto pericolose per l'operatore specializzato oppure no che le utilizza perché già il rischio potrebbe essere un deterrente per fare per curare bene le attrezzature del caffè uno dice è pericoloso non lo prendo in mano non lo uso non lo utilizzo non pulirò mai ma questi sono sicuri giusto perché siamo arrivati alla conclusione voglio fare ritornare con noi anche Gianfranco Carovelli che appunto è amministratore delegato della Zachimici Gruppo Pulicaf e siamo ecco tutti insieme eccoci qua io vi ringrazio tantissimo ecco ho spesso un microfono perché sennò ci sono dei ritorni vi ringrazio entrambi e faremo sicuramente nuove puntate per per approfondire questi temi perché sono fondamentali la pulizia è fondamentale tanto quanto tutti gli altri passaggi per giungere a un espresso perfetto Gianfranco non so se vuoi salutare tutti quelli che ci stanno seguendo sì sicuramente saluto tutti gli amici sicuramente perché anche questi sono certo che oggi ci hanno seguito tanti amici e tanti cultori di questo di questa magnifica bevanda che è il nostro espresso ma soprattutto stiamo sempre attenti perché la mamma ci ha insegnato a lavarci il viso con due mani perché altrimenti una mano sola non si può oggi la tecnologia chiaramente è quello che è la ricerca che da una parte a monte ci viene fornita a mezzo delle materie prime e noi nei nostri laboratori chiaramente cerchiamo di formulare e di trovare delle ricette molto molto sostantive su quello sporco che noi dobbiamo combattere questo olio grasso del nostro caffè che è una fortuna averlo altrimenti non riusciremo mai a percepire quelle note che a noi piacciono moltissimo bene io vi ringrazio entrambi grazie a tutti voi che ci seguite e a prestissimo con i 25 millilitri grazie 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 claudia saluto tutti gli amici andrea a tutti buon lavoro e buon estate e alla prossima